Mi chiamo Paca Rimbau Hernández, sono nata a Granada il 7 dicembre del 1957 e abito a Luxemburgo dal 2 novembre 1985. Lavoro come tradutrice, interprete, insegnante di spagnolo e occasionalmente come giornalista. Milito in diversi settori e in particolare nell'ambito della memoria detta storica, la comunicazione, il femminismo e la cultura. Avevo 26 anni a settembre dell'anno 1984, allora abitavo ancora Granada, continuavo a studiare e lavoravo in un giornale. A luglio del 1984 c'è stato un incontro a Motril, una località della provincia di Granada, sulla pedagogia libertaria al quale hanno partecipato diverse persone anarchiche come Eloisa Castellano, Eduardo Colombo, Ariane Gransac e Ottavio Alberola. Loro mi hanno detto ma perché non verresti a Venezia alla fine del mese di settembre prossimo perché c'è un grande convegno anarchico e avremmo bisogno di interpreti? Non ci ho pensato tanto e ci sono andata. Come ricordi più vividi di questi quattro giorni io ritengo soprattutto l'incontro con le persone, l'aspetto umano, ho potuto mettere un volto a delle idee, a delle letture anarchiche. Queste letture, queste idee avevano una voce propria e al di là dei momenti di convivialità dove si cantava, si beveva, si passeggiava, si rideva, si chiacchierava, ci sono stati altri momenti anche di molto lavoro, di molte riflessioni che per me sono state molto molto importanti. Ci è stato anche un aneddoto meno divertente sul momento ma anche molto istruttivo, cioè quando ero in cabina che c'era la discussione tra la CNT e la CGT, a un certo punto i compagni che erano a tavola a discutere sono stati molto in disaccordo e hanno cominciato ad urlarsi e a litigare in modo che io soltanto ascoltavo un furuscio ma non potevo distinguere nulla per cui le persone che seguivano la mia interpretazione si sono innervosite e guardavano verso la cabina dicendo ma insomma di qualcosa e io ovviamente non potevo riprodurre nulla perché niente ascoltavo con chiarezza il che ancora una volta ci dimostra che quando si arriva alle urla o ai pugni è molto difficile a volte anche impossibile risolvere i problemi. Nella mia vita c'è un prima e un dopo Venezia 84 perché questa esperienza, questi incontri con delle persone, alcune delle quali ho ancora la fortuna di poter rimanere in contatto, hanno trasformato il mio modo di vedere tante cose e non soltanto parlo dal punto di vista personale ma anche socio-politico per cui io sono molto molto riconoscente a Venezia 84 e alle persone, ai compagni e alle compagne che l'hanno reso possibile. Ciao anarchici!